La partita tua Stefano con le basche travena che attende proprio la fortitudine, parleremo a lungo durante questa puntata, ti chiedo come vi approcciate a questo match, non si è giocato, venite da una settimana in cui avete potuto anche ricaricare le batterie. Dopo Mantua abbiamo avuto qualche giorno di riposo, concordato con lo staff, però siamo in palestra da venerdì, quindi arriviamo con tanta benzina nelle gambe, tanta voglia di riscattarci, di tornare a giocare buone partite. Domenica sarà una battaglia, loro vengono da una finale di Coppa Italia persa e dall'ultima con Monterrenaro persa, quindi vogliono vincere. Noi abbiamo rabbia perché per noi queste ultime sette partite sono sette finali. Antimo c'è un qualcosa che mi lega e quindi vuoi per le cose che abbiamo fatto, vuoi per cosa siamo riusciti a fare qui, che non mi verrebbe ancora da dire papà, ma forse qualcosa di più.